Un car saluto da Mario Giuliaci, il tempo previsto per giovedì 17 marzo. Una debole perturbazione atlantica riesce appena a lambire le regioni di nord-ovest perché indebolita da un anticiclone centrato sull'Europa centro-settentrionale. Un'altra debole perturbazione di origine africana inizia a interessare le regioni centro-meridionale e l'isola Maggiore con i suoi eventi di Scirocco. Il tempo previsto, pioggia inferiore a 5 mm su ovest di Piemonte, Sardegna e Sicilia. Temperature massime supergiustazionari a 14-16 gradi al nord e regioni adriatiche 17-19 gradi sul resto dell'Italia.